Benvenuti o bentornati sul mio canale, il mio nome è Chiara e su questo canale tratto principalmente casi di cronaca nera, quindi se vi interessano questo tipo di argomenti siete decisamente nel posto giusto. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale così da non perdere futuri video ed iniziamo subito con la storia di oggi. Oggi vi voglio parlare di una donna di nome Janine Patrick. Ci troviamo nel North Carolina, per la precisione nella contea di Durham. Janine ha 57 anni, vive con suo marito Robert di qualche anno più giovane. Janine non era originaria del North Carolina ma bensì di New York, dove era nata nel 1945. Aveva studiato al conservatorio come violoncellista e si era sposata molto giovane con un uomo di nome Chaz, con il quale aveva avuto ben tre figli maschi. La coppia, subito dopo la nascita del primo figlio, si era trasferita nel Vermont, ma purtroppo suo marito muore all'improvviso a causa di un attacco cardiaco, lasciando la donna sola e in quel momento con tre figli adolescenti. In quel momento Janine lavorava come insegnante elementare, ma lo shock e il dolore per l'aver perso così all'improvviso quello che era l'amore della sua vita, la spingono a cambiare direzione e a tornare a fare quello che veramente amava, ovvero la violoncellista. E dopo qualche anno Janine decide di cambiare completamente vita, trasferendosi nel North Carolina, nella contea di Durham, questo nel 1995. Janine cerca di vivere la vita a pieno, abbracciando ogni opportunità e attività recreativa possibile. Inizia a partecipare alle attività più disparate, prende infatti lezioni di danza del ventre, taekwondo, e trova un suo equilibrio. Dopo quattro anni dal suo trasferimento a Durham, Janine aveva 55 anni, i tre figli avevano ormai lasciato casa e tutti e tre vivevano fuori dallo stato del North Carolina. E proprio quell'anno, quindi nel 1999, Janine incontrerà nuovamente l'amore. Proprio nella chiesa locale da lei frequentata conosce un uomo di nome Robert Patrick. Anche Robert aveva alle spalle un matrimonio, finito però con un divorzio. L'uomo era un ingegnere informatico. I due si conoscono e si innamorano quasi immediatamente, dopo due anni con volano a nozze. Robert non aveva avuto figli dalla precedente relazione. Janine e Robert amavano cucinare insieme ed erano dei veri e propri nerd. Robert aveva otto anni in meno di Janine ed era nato a Chicago. Suo padre aveva abbandonato la famiglia quando Robert era piccolo e con la madre e il resto dei fratelli si erano trasferiti moltissimo negli anni seguenti. Pensate che quasi ogni anno, da quando Robert aveva circa quattro anni, si erano trasferiti in uno stato diverso degli Stati Uniti. La madre di Robert si era sposata altre due volte. E diciamo che, insomma, Robert tra trasferimenti e i vari uomini e mariti della madre aveva avuto un'infanzia piuttosto caotica. Aveva frequentato una scuola cattolica ai tempi di liceo e gli insegnanti lo avevano definito un vero e proprio genio. Purtroppo il ragazzo veniva continuamente schernito dal resto dei compagni che lo prendevano in giro a tal punto che, all'età di 16 anni, Robert fu costretto a ritirarsi da scuola. Agli occhi dei figli della donna, Janine sembrava felice, soddisfatta, sia della sua vita lavorativa che di quella matrimoniale, fino al 22 gennaio del 2003. Quel giorno, infatti, Robert chiama il 911, denunciando la scomparsa di sua moglie Janine. L'uomo riporta, infatti, che la notte precedente la moglie non era rientrata in casa. Si era recata, infatti, all'auditorium per le consuete prove, ma non aveva mai fatto ritorno. La polizia, così, si reca immediatamente all'ultimo luogo in cui, in teoria, Janine si era recata e la sua macchina era parcheggiata proprio nei pressi dell'auditorium. Le chiavi della stessa, la sua borsa e del violino, si trovavano all'interno. Lo strumento musicale poteva essere visto chiaramente dall'esterno della vettura, il che appariva insolito costava diverse migliaia di dollari e certamente Janine non lo avrebbe mai lasciato in bella vista, insomma, in modo tale che potesse essere visto addirittura dal finestrino. Non c'erano segni di colluttazione o di furto, le portiere non erano state forzate, non c'era traccia di sangue né all'interno né all'esterno, insomma, nulla che potesse indicare che fosse stato commesso un crimine. La polizia interrogò ogni membro dell'orchestra che quel giorno aveva preso parte alle prove e nessuno però aveva visto Janine. Janine non si era mai presentata e nessuno di loro aveva nemmeno notato qualcosa di sospetto nel parcheggio. È vero che la sua macchina era parcheggiata davanti all'auditorium, ma certamente Janine non ci aveva mai messo piede quel 21 gennaio. Qualcosa doveva essere successo dal momento in cui aveva parcheggiato l'auto al momento in cui stava per entrare all'interno della struttura. In apparenza Janine aveva una vita regolare, monotona forse a tratti. Era estremamente affidabile, gentile, aveva un ottimo rapporto con i tre figli, Christopher, Stephen e Robin, che, come ho detto, non vivevano nel North Carolina, ma con cui parlava regolarmente, quasi quotidianamente. E aveva una vita matrimoniale all'apparenza serena e appagante. Janine era definita da molti come una donna adorabile, una donna minuta, sempre con un sorriso che in molti definiscono gentile. Chi avrebbe mai potuto avercela con lei? In un primissimo momento si ritenne che quell'aggressione fosse stata del tutto casuale, quello che viene chiamato un cosiddetto crimine di opportunità. Janine, come aveva menzionato più volte anche ai suoi figli e ai membri stessi dell'orchestra, non si sentiva sicura a portare lo strumento di valore dal parcheggio dell'orchestra fino all'interno della struttura. La zona in cui si trovava l'auditorium non era tra le più sicure della città. Secondo Janine, come aveva raccontato, c'erano degli individui loschi e erano stati commessi dei piccoli furti proprio in quella zona. Spesso si era lamentata proprio con la struttura, chiedendo di provvedere ad un'illuminazione più adeguata nel parcheggio. Le prove terminavano a tarda notte e una parte di questo parcheggio era completamente al buio, quindi insomma la donna non si sentiva al sicuro. Gli investigatori però escludono che si tratti di una aggressione a scopo di furto, perché altrimenti se lo fosse stata, perché l'aggressore avrebbe lasciato il violino e la borsa della donna con all'interno il portafoglio? Questo non aveva alcun senso, così i detective cercarono di ricostruire le ultime ore di Janine prima della sua sparizione, ovvero quando aveva lasciato casa per regarsi alle prove, fatto e confermato da suo marito Robert. I figli di Janine confermarono che la madre fosse molto felice con Robert. Quando si erano conosciuti nel 1999 ed erano andati a vivere insieme, i tre figli della donna, essendo molto protettivi nei suoi confronti, avevano fatto il terzo grado a Robert, facendogli domande di tutti i tipi per capire che intenzioni avesse, che tipo di persona fosse, per essere certi che fosse ecco una brava persona. Robert non aveva mai dato idea ai figli di Janine di non esserlo. L'unico fatto, come racconteranno ai detective, che gli risultò un po' strano, era che Robert aveva detto di essere un ingegnere informatico, ma sembrava non lavorare mai. Stava infatti sempre a casa, e non in smart working, ma alla fine ogni mese portava a casa uno stipendio, rendeva felice, insomma, Janine, quindi in fin dei conti i figli erano felici per lei. Poco dopo il matrimonio, quindi nel 2001, Robert aveva ereditato 250.000 dollari a seguito della morte di sua madre. Purtroppo, però, a partire dal 2002, quindi l'anno prima della scomparsa di Janine, la coppia aveva iniziato ad avere dei problemi economici. I detective incaricati del caso informano immediatamente i familiari di Janine, quindi principalmente i suoi tre figli, che arrivano il giorno dopo la sua scomparsa nel North Carolina. I detective cercano di capire se ci fossero delle ombre nella vita della donna, e i figli menzionano qualcosa di preoccupante. Infatti, a partire dalla settimana prima della scomparsa di Janine, avevano cercato, come di consueto, di mettersi in contatto con la madre, parlavano, infatti, come ho già detto, con lei quasi tutti i giorni, e avevano avuto non poche difficoltà a contattarla. Ogni volta che chiamavano a casa, rispondeva Robert, e mai Janine. Robert diceva sempre che Janine non fosse in casa, e quando chiamavano la sera o la mattina, insomma, ad orari in cui sapevano che la madre doveva trovarsi in casa, Robert diceva che in quel momento Janine era impegnata, ogni volta utilizzando una scusa diversa. Robert, pur di non passargli, la esclamò una volta con uno dei figli che Janine fosse troppo depressa per venire al telefono. I tre ragazzi si confrontarono su questa situazione, ed il 21 gennaio, esattamente il giorno in teoria in cui Janine era scomparsa, uno dei figli lascia un messaggio nella segreteria telefonica, in cui minaccia, tra virgolette, Robert, che se lui non fosse riuscito a mettersi in contatto con sua madre nelle prossime 24 ore, sarebbe andato direttamente a casa loro. Comprensibilmente tutti e tre i figli erano preoccupati. Avevano raccontato dell'accaduto alla polizia. Robert si era giustificato in merito a questo episodio dicendo la stessa cosa che aveva detto ai suoi figli, ovvero che Janine in quella settimana era troppo depressa per parlare con qualsiasi persona al telefono. Aveva detto che la donna si chiudeva in casa, rifiutandosi proprio di uscire, contemplando addirittura di togliersi la vita. Non era proprio così in realtà, perché Janine era uscita di casa, era andata al lavoro, e i colleghi l'avevano trovata in quel periodo assolutamente normale, insomma in quel mese di gennaio. Nei due giorni però precedenti alla sua scomparsa, Janine effettivamente non si era presentata al lavoro e nemmeno i vicini di casa l'avevano vista buttare la spazzatura, insomma uscire, prendersi cura del giardino. I detective arrivano alla conclusione che Janine non fosse mai arrivata in quel parcheggio quel 21 gennaio e che qualcun altro avesse guidato la sua macchina. E la polizia arriva a questa conclusione, principalmente per due ragioni. La prima era che Janine era alta solo 1,49 m ed il sedile del guidatore era posizionato per una persona di un'altezza di almeno 1,75 m. Quindi non poteva averla guidata lei quella macchina l'ultima volta. Ed in secondo luogo perché Janine non parcheggiava mai in quel punto del parcheggio. Infatti era troppo lontano e privo di illuminazione. Forse Janine non era solo scomparsa. Le indagini iniziano a ruotare intorno all'ipotesi dell'omicidio e far ritrovare la macchina in quel parcheggio sarebbe stato solamente un depistaggio per spostare un po' più, diciamo, in là nel tempo il momento della sparizione. Cosa avrebbe potuto aver portato all'eventuale omicidio di Janine? Non avendo un corpo o elementi cruciali per determinare un movente la polizia dopo pochi giorni sposta l'attenzione proprio su Robert colui che aveva detto di aver visto Janine andare alle prove dell'orchestra. Analizzano la situazione finanziare della coppia. L'uomo era un ingegnere informatico e lei era una violencellista. Avrebbero dovuto guadagnare entrambi molto bene ma in realtà la loro situazione finanziaria era disastrosa. Infatti i conti correnti di Janine erano vuoti e risultava che il plafone di tutte le carte di credito fosse stato sforato. E nessuno intorno a Janine sembrava spiegare il perché di questa situazione. È vero che Robert aveva perso qualche cliente ma nulla che potesse giustificare quella situazione. I figli confermarono che la madre era sempre stata inoltre molto responsabile su come gestire il denaro. Non era certo solita sperperarlo e non erano minimamente a conoscenza dei problemi economici della coppia. Uno dei figli ricorda che una volta la madre gli aveva chiesto se per errore quando era venuto a trovarla avesse preso delle lettere dal tavolo perché le lettere con gli estratti conto della banca arrivavano sempre all'indirizzo di casa. Ricordava di averle prese dalla cassetta della posta lei stessa di averle lasciate da qualche parte sul tavolo e poi erano andate perse da qualche parte nella casa. Suo figlio era certo di non aver preso alcuna lettera e racconta questo dettaglio che sarà particolarmente importante in futuro alla polizia. Questo è qualcosa che si verifica in molti crimini di natura finanziaria soprattutto quelli commessi negli anni 90 e nei primi anni 2000. Se qualcuno infatti riesce ad intercettare le lettere che vengono dalla banca in pratica ha il totale controllo su quello che la vittima del crimine finanziario riesce a vedere. Ad oggi abbiamo accesso ad applicazioni all'online banking quindi è molto più semplice ed accessibile controllare il nostro estratto conto in una manciata di secondi possiamo avere il quadro della situazione e si scoprì che era stato proprio Robert a prendere quelle lettere prima che potessero arrivare nelle mani di Janine. Pensate che andava direttamente a prenderle prima che il postino potesse depositarle nella cassetta delle lettere. Ottengono un mandato di perquisizione e scoprono che nel semi-interrato della casa di Robert l'uomo aveva diversi computer collegati uno all'altro sembrava come descriveranno i detective la scena di un film di fantascienza. Quando ispezionano quella zona della casa quindi in cui si trovava il suo ufficio Robert appariva particolarmente nervoso stressato al punto che uno dei detective lo aveva invitato ad indietreggiare in quanto invadeva continuamente lo spazio personale gli stava proprio addosso ai tecnici anche della scientifica. Durante quella perquisizione scoprirono diversi assegni che Robert aveva intestato a se stesso per conto di Janine falsificandoli prove dunque sufficienti per incriminarlo per contraffazione. Sulla base di questi elementi si accerti che Robert avesse qualcosa a che fare con la sparizione della moglie. Avevano delle prove circostanziali ma nulla di fisico non c'era alcuna traccia di sangue all'interno dell'abitazione fino a quando però si avvalsero dell'ausilio dei cani da cadavere che appena entrarono nella camera matrimoniale di Janine e Robert indicarono che qualcosa era successo al suo interno come anche nella doccia che era appunto nel bagno adiacente alla camera matrimoniale. Questo significava che in quelle due arie c'era stato certamente un cadavere e scopriranno che l'intera vita di Robert era stata una gigantesca menzogna. In precedenza Robert era stato accusato di frode a circa vent'anni ed aveva scontato per questo reato anche un breve periodo in prigione. Quando era uscito si era sposato con la fidanzatina dell'iceo di nome April. Durante il matrimonio Robert aveva utilizzato più volte a sua insaputa cioè l'insaputa di April le sue carte di credito prosciugando i conti della donna che aveva dovuto dopo qualche anno dichiarare la bancarotta. April descriverà l'ex marito come un compratore compulsivo al termine del loro matrimonio durato circa 15 anni l'aveva lasciata sull'astrico e danneggiato anche il suo merito creditizio il cosiddetto credit score che tra l'altro è molto difficile da risanare. Inoltre durante un litigio Robert era stato violento nei suoi confronti l'aveva afferrata per il collo e l'aveva stracolata fortunatamente lasciandola poi andare e aveva giustificato un atto chiaramente ingiustificabile però insomma si era giustificato dicendo che non sapeva che cosa gli fosse successo in quel momento non era riuscito a controllarsi in seguito al matrimonio con April aveva svolto diversi impieghi tra cui anche quello di Postino ma venne pensate denunciato e licenziato dalle poste stesse in quanto venne fuori che invece di consegnare le lettere le gettava nella spazzatura in seguito si trasferì a casa di una coppia di amici Keith e Freda e i tre iniziano una relazione poliamorosa che per definizione da quello che leggevo online è una relazione non monogona che coinvolge più di due persone di solito è caratterizzata da una coppia primaria che in questo caso appunto erano Keith e Freda che apertamente e soprattutto con reciproco consenso interagiscono con altri partner romantici questi rapporti passionali possono essere messi in atto in coppia o indipendentemente comunque ogni relazione poliamorosa è diversa l'una dall'altra sicuramente però un concetto distante dall'idea di relazione tradizionale Robert rimane a vivere con la coppia in questa relazione per diversi anni e incontrerà Janine nel 1999 dopo pochissimi mesi dall'avere interrotto questo rapporto a tre torniamo alla fine del 2002 pochi mesi prima della scomparsa di Janine sembrerebbe che la donna si fosse accorta che Robert le rubasse dei soldi e che stipulasse degli assegni a suo nome ma ogni volta che lei lo affrontava o gli chiedeva delle spiegazioni lui aveva sempre una storia pronta per giustificarsi una volta infatti diceva che era stato un errore della banca altre volte invece che un cliente non l'aveva più pagato e nonostante Janine faceva il più possibile economia la coppia sembrava sempre essere a corto di soldi ma verso la fine del 2002 Janine si era accorta che Robert la stesse derubando e l'aveva anche confessato la sua amica Margaret Lewis Janine aveva intrapreso delle azioni anche con la banca per cercare di mettere un freno all'accesso di Robert al suo conto corrente ma in qualche modo Robert era riuscito a bypassarle la polizia scientifica scoprirà delle ricerche molto preoccupanti sul pc di Robert l'uomo aveva digitato sul motore di ricerca google come uccidere qualcuno a mani nude oppure come liberarsi di un corpo in un lago avevano trovato delle ricerche sui laghi e i boschi circostanti a quella zona non avendo un corpo o un'arma del delitto gli agenti sperarono che Robert messo sotto pressione durante gli interrogatori confessasse di aver fatto del male a Janine ma questo non avvenne Robert infatti pressato dagli investigatori confessò solamente il crimine finanziario ma sostenne di non essere un omicida di non aver mai fatto del male a nessuno il procuratore non voleva andare a processo sulla base di prove puramente circostanziali ma potevano comunque incriminarlo per la contraffazione degli assegni fino a quando arriva una vera e propria svolta nel caso quando una donna di nome Anne Jensen dalla città di Atlanta chiama al dipartimento di polizia di Durham sostenendo che Robert l'uomo che si trovava su tutti i notiziari sospettato di aver ucciso sua moglie era il suo fidanzato e che le aveva chiesto di sposarla solo qualche mese prima Anne e Robert si conoscevano sin dai tempi del liceo all'epoca erano solo buoni amici ma nel 2001 Anne si era messa in contatto con Robert tramite una piattaforma online Anne in quel momento non aveva idea che l'uomo fosse già sposato infatti lui le aveva detto di essere single e lei gli aveva creduto avevano iniziato a parlare online tutti i giorni creando una connessione fino a quando Robert non aveva iniziato proprio a viaggiare da Durham fino ad Atlanta diverse volte al mese per incontrare Anne ed i due iniziano ben presto una relazione e dopo sei mesi dal loro primo incontro ad Atlanta Robert chiede ad Anne di sposarla dicendole di voler trascorrere il resto della sua vita con lei per tutto questo tempo per pagare i viaggi gli hotel i regali compreso l'anello di fidanzamento ad Anne Jensen Robert aveva utilizzato i soldi di sua moglie Janine Anne si era fidata di quell'uomo pensò che conoscendolo dai tempi del liceo poteva insomma fidarsi di lui Anne aveva questa idea romantica che dopo 30 anni insomma in cui erano stati separati si erano finalmente rincontrati la donna pensava davvero di aver trovato in Robert la sua anima gemella ma purtroppo per lei non sarebbe stato il lieto fine sperato e dopo Anne Jensen altre donne che videro Robert al notiziario si fecero avanti con una storia molto simile alcune di loro raccontarono di aver iniziato a frequentare Robert altre che erano state truffate da Robert mentre erano legate sentimentalmente all'uomo infatti la vera professione di Robert non era affatto l'ingegneria informatica Robert era un truffatore professionista intraprendeva una relazione di natura sentimentale con una donna e appena si guadagnava la sua fiducia la donna in questione abbassava la guardia e si faceva manipolare da Robert a volte lui riusciva a convincerle di investire del denaro in qualche idea di business altre volte riusciva ad avere accesso al proprio conto bancario insomma aveva uno schema ben preciso su come operare incontrava una donna iniziava a frequentarla e appena aveva preso tutto quello che poteva o appena la donna in questione aveva intuito le sue vere intenzioni scompariva dalla sua vita era solito trovare la prossima vittima prima di abbandonare quella attuale era la costante ricerca di uno specifico profilo era un vero camaleonte interpretava diversi personaggi a seconda della donna del momento Robert per oltre vent'anni non aveva avuto un vero lavoro e il suo modo superante era proprio quello di intercettare le lettere gli estratti conti delle bollette insomma delle spese e disfarsene o comunque nasconderle così che la donna in questione non si rendesse conto di quello che stava succedendo chi è vittima della cosiddetta love fraud o frode d'amore una frode che presuppone un rapporto di natura intima tra la vittima e chi e chi compie il comportamento fraudolento è assolutamente una persona una donna in questo caso che ha vissuto un rapporto precedente in cui poteva completamente fidarsi del proprio partner esattamente come Janine che aveva vissuto un matrimonio felice sereno con Chatz se avesse avuto dei traumi nel rapporto precedente molto probabilmente la stessa persona in un rapporto futuro con un altro compagno sarebbe stata più guardigna quindi chi compie questo tipo di truffe seleziona sceglie proprio delle persone che hanno avuto in passato relazioni felici basate sulla fiducia che quindi per esperienza pongono fiducia nel proprio compagno o nella propria compagna sanno benissimo che tipo di persona scegliere qualcuno che si fidi qualcuno che li lasci fare la polizia ritiene che l'uomo avesse intenzioni serie di sposare Anne Jensen ma solo perché la donna era l'ereditiera di una famiglia molto ricca di Atlanta non certo perché ne fosse innamorato i preparativi per il matrimonio andarono avanti anche dopo la scomparsa di Janine e l'uomo agli occhi di Anne in quei mesi quindi nel febbraio e nel marcio del 2003 appariva molto preoccupato e quando lei aveva chiesto che cosa avesse l'uomo aveva risposto che era stressato perché una sua amica di nome Janine era scomparsa quando invece era sua moglie ad essere scomparsa non una sua amica quattro mesi dopo il 19 maggio del 2003 dei pescatori notarono qualcosa galleggiare in un lago vicino alla città di Durham e quel qualcosa purtroppo era proprio il corpo di Janine il suo corpo era stato avvolto in delle coperte a sua volta avvolte in un telo da campeggio i diversi strati erano stati da un nastro adesivo che girava più volte intorno a questo telo da campeggio le gambe della donna erano state appesantite da dei blocchi di sabbia che le erano stati legati intorno per fare in modo che il corpo non emergesse dall'acqua nonostante l'intento chiaro di non portarlo in superficie il corpo umano durante la decomposizione produce dei gas che rendono molto più facile per lo stesso galleggiare per questo dopo quattro mesi quei gas lo avevano portato in superficie la causa della morte era stata l'asfissia il giorno seguente il 20 maggio Robert venne arrestato e accusato di omicidio di primo grado la polizia aveva il corpo di Janine ma quello che venne ritenuto determinante per la sua incriminazione furono proprio le ricerche su google che Robert aveva fatto pochissime settimane prima del suo omicidio quando aveva compreso infatti che Janine aveva capito tutto aveva pensate salvato come preferiti nelle sue ricerche google 22 modi per uccidere un uomo a mani nude e inoltre sembrerebbe che Robert avesse fatto delle ricerche proprio su quel lago dove venne ritrovata Janine come sulla profondità la topografia i punti d'accesso per arrivarci la cosa insomma che risultò strana è che Robert era certamente a conoscenza che quelle ricerche sarebbero state facilmente trovate dai tecnici della polizia a maggior ragione che aveva delle conoscenze nel campo informatico ma perché Robert aveva ucciso Janine perché non l'aveva semplicemente lasciata ed era sparito concentrandosi sulla prossima vittima cos'era accaduto questa volta quel gennaio Janine aveva raccontato a diversi amici e conoscenti che stava vivendo un vero e proprio dramma in casa temeva che suo marito le stesse sottraendo del denaro non menzionando mai a nessuno che l'uomo avesse relazioni con altre donne quindi forse Janine non era a conoscenza di questo aspetto della vita di Robert i figli erano certi che se Janine avesse scoperto quello che Robert stava facendo lo avrebbe certamente confrontato non importa quanto umiliante potesse essere per Janine quella situazione lei l'avrebbe denunciato e l'avrebbe fatto sbattere in galera e probabilmente Robert aveva compreso che Janine non avrebbe lasciato perdere sarebbe andata direttamente in polizia chi compie questo tipo di truffe molto spesso riesce a farla franca proprio perché la vittima avendo avuto una relazione di natura personale si sente imbarazzata si sente umiliata ad essere stata presa in giro concedetemi la parola e frodata dall'uomo o dalla donna con cui aveva una relazione e per questa ragione non sporge denuncia portando il responsabile a continuare a perpetrare questo tipo di crimine ma come dichiareranno anche i suoi figli Janine avrebbe certamente portato quanto accaduto all'attenzione della polizia e per questo Robert aveva pianificato il suo omicidio il processo ebbe inizio nel 2005 e Robert decise di rappresentarsi da solo licenziando all'inizio del processo il suo avvocato questo è un comportamento tipico di un narcisista che pensa di essere intellettualmente superiore a tutti gli altri pur in questo caso non avendo alcun tipo di esperienza legale nella ringa di apertura del processo dichiara di non essere stato un marito ideale di non essere certo un uomo che cito vorresti portare a cena a conoscere la tua famiglia ma lui non era un omicida e come esclama davanti alla giuria dovrete certamente dichiararmi innocente al processo testimonieranno le varie donne che negli ultimi vent'anni erano state vittime di Robert e l'uomo a ciascuna di queste chiederà se lui fosse stato mai violento in qualche occasione se fosse stato mai aggressivo fino a quando un'amica di Janine sul banco dei testimoni racconta qualcosa che Janine l'aveva raccontato proprio a inizio del gennaio 2003 che l'aveva allarmata Janine nei primi giorni di gennaio aveva affrontato Robert per la questione dei soldi e lui l'aveva messo le mani al collo per poi lasciarla andare Janine dopo questo episodio era terrorizzata del marito un altro amico di Janine sostenne che la donna era disperata non era più lei temeva che le avrebbero pignorato la casa non era nemmeno certa di potersi permettere di fare la spesa al supermercato e si vergognava per quello che le era successo quindi insomma emerge il fatto che lei avesse compreso in pieno la gravità della situazione finanziaria anche se non aveva voluto forse allarmare i suoi figli quindi erano gli unici in realtà a non esserne a conoscenza un'altra sua amica testimoniò che sempre quel gennaio Robert aveva usato un taser su di lei per stordirla forse questi nel mese di gennaio erano stati tutti tentativi di uccidere Janine non oso immaginare il terrore di questa donna Robert venne condannato all'ergastolo senza possibilità di condizionale cercò di fare ricorso alla sentenza appellandosi al fatto che i suoi precedenti per frode non sarebbero dovuti essere menzionati nel processo per l'omicidio di Janine ma il ricorso in appello gli venne rifiutato nel 2007 per questo caso mi sono avvalsa di un podcast che parla principalmente di casi di natura finanziaria che per definizione non sono crimini violenti ma statisticamente quando un individuo che perpetra reati di natura finanziaria diventa violento sfocia nella maggior parte dei casi in omicidio ed è proprio quello che riportava questo podcast e bene questo era tutto quello che io avevo su questa storia e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti sono sempre curiosa di sapere la vostra opinione sui casi che tratto io vi ringrazio se avete visto il video fino a questo punto e noi ci vediamo molto presto con una nuova storia ciao